...eccessivamente con la sconfitta casalinga ad opera della Campania per 3 a 1 che poi come vedremo per tre anni e mezzo sarà l'unica sconfitta casalinga del Celeste si mette in evidenza Orazio Sorbello con la maglia del Campania realizza uno dei gol più belli mai visti al Celeste di Messina sullo 0 a 1 questo cross di caccia in spaccata Pedrazzini para coi piedi Marigo Sciupa poi Schillaci mannando da due passi altissimo in curva nord la disperazione di Totò e poi il raddoppio bellissimo ancora una volta di Orazio Sorbello che sconcerta con una serie di finte mancini e poi diposita di piatto destro in fondo al sacco 2 a 0 per il Campania il Messina accorcia le distanze grazie ad un calcio di rigore trasformato da Schillaci il 3 a 1 finale è siglato da questo calcio di punizione pennellato da Angelo Orazzi